Allora, ciao a tutte e a tutti, dovremmo essere live, c'è sempre questo momento imbarazzante in cui non si sa bene, però mi pare di sì. Dunque, innanzitutto mi presento, mi chiamo Maria Chiara, ho studiato politiche comparate a San Pietroburgo e scrivo per Lo Spiegone. Lo Spiegone è un giornale di approfondimento di politica e società internazionale e facciamo slow journalism, cioè sostanzialmente non inseguiamo la cronaca, ma scriviamo più che altro approfondimenti con cui vogliamo sostanzialmente dare ai nostri elettori e ai nostri elettrici degli strumenti che gli consentono di comprendere a fondo le dinamiche di società e politica internazionale relative a una certa area o a un certo fenomeno e dunque anche essere in grado di capire le notizie che gli vengono date. Dunque, oggi vorrei approfondire un argomento che ho recentemente trattato con Lo Spiegone, che sono le comunalchi. Dunque, partendo dall'inizio, comunalchi è l'abbreviazione del russo comunalne quartieri, che letteralmente significa appartamenti in comune. Si tratta di antichi palazzi nobiliari del centro di Mosca e San Petroburgo e altre città principali russe, che sono stati riconvertiti in seguito alla rivoluzione d'ottobre per ospitare più famiglie. Detta così, sembra poco più di una ripianificazione urbanistica, però invece si tratta di uno degli elementi più importanti e più incisivi nella storia della cultura russa dal 1918 in poi, che non ha stravolto la mentalità, lo stile di vita e le abitudini dei loro inquilini e di conseguenza ha avuto uno spazio molto ampio nella cultura e nella letteratura sovietica e post-sovietica. Dunque, per comprendere questo fenomeno dobbiamo risalirne all'origine. Nel 1917, seguito alla presa del Palazzo d'Inverno, il potere bolshevico abolì con un decreto la proprietà privata e in seguito ratificò questo provvedimento della Costituzione del 1918. E da lì in poi il neonato regime sovietico si impegnò in una ridefinizione totale della vita politica, sociale e anche privata, soprattutto dei suoi cittadini. La dimensione spaziale fu una protagonista indiscussa di questa rivoluzione, tant'è che partendo dalle toponimie, quindi la città che oggi noi chiamiamo San Pietroburgo si chiamava a Leningrado. Alla progettazione architettonica abbiamo grandi esempi di questa cosa, ad esempio l'architettura costruttivista e di ispirazione collettivista. Tuttavia, questo sconvolgimento della spazialità dei cittadini soviatici ebbe grandissime repercussioni soprattutto nella loro quotidianità e nel loro privato. Infatti, dal 1917 in poi, di pari passo con la nuova politica economica di Lenin, le abitazioni vennero man mano confiscate e requisite ai privati che le occupavano e a cui appartenevano. Quindi, sostanzialmente, cosa succede? Succede che questi cittadini, questi proprietari ricevono visite dai funzionali statali, un bel giorno e questi funzionali gli dicono da oggi questa casa non appartiene più a voi, bensì verrà usata per fare questo, questo e quest'altro. A ciascun cittadino venne inizialmente segnata una superficie abitativa di diritto, diciamo, di 9 metri quadri, che poi, questa misura poi man mano si andò a ridursi fino a raggiungere 6, 7, fino a raggiungere i 4 metri quadri alla fine degli anni 50. Dunque, nel pratico questo cosa significa? Significa che questi grandi appartamenti nei palazzi nobiliari, palazzi antichi di 700, 800, vennero trasformati in complessi abitativi, ripartiti fra più famiglie che ne pagavano un affitto minimo allo Stato. Quindi, nelle grandi stanze di questi grandi appartamenti vennero anche retti muri, perché comunque si trattava chiaramente di appartamenti nobiliari, quindi con stanze molto ampie e molto grandi, vennero retti dei muri e queste mini stanze, all'interno delle stanze, vennero assegnate a delle famiglie che vennero traslocate lì. Si trattava della politica della cosiddetta condensazione, quindi da russo utaplegne, quindi di condensare insieme i cittadini. Chiaramente questo portò a uno strevolgimento totale del tessuto sociale urbano. Infatti, quelle stesse stanze con tempo erano rifugio di letterati, di scienziati, di artisti. Venivano assegnate a famiglie, innanzitutto di estrazione sociale molto più modesta, perché si trattava più che altro di famiglie operaie, ma soprattutto estranne fra loro. Infatti, qua vorrei aprire una parentesi. Chiaramente il fatto che le persone condividessero in un appartamento e abitassero in stanze diverse dello stesso appartamento, anche appartamenti antichi del centro, eccetera, non hanno novità. Tant'è che questa situazione viene descritta benissimo in moltissimi romanzi di Dostoevsky, come Povera gente, ma soprattutto Delitto e Castigo, in cui abbiamo Raskolnikov, questa coppia quasi comica di Raskolnikov e del suo coinquilino Libriziatnikov, che condividono questo appartamento e pagano l'affitto alla signora Pavlovna. Apparentemente queste due persone, appunto, Raskolnikov e Libriziatnikov, non hanno molto in comune, perché appunto uno è un socialista convinto, fervente, molto ideologico e tutto, l'altro invece, insomma, lo conosciamo. Ma in realtà non è così, appunto, queste due persone hanno molto in comune, sono giovani studenti, sono giovani pensatori, insomma. E infatti lo scenario che vi descrivo io oggi, cioè quello delle comunalchi, si discosta molto dalla convivenza usuale, appunto, che era a prassi fino ad allora. Infatti si cercò di rendere politica, policy, un'usanza che era già comune, però cambiandone delle caratteristiche. Infatti, innanzitutto, gli inquilini delle comunalchi non vivevano insieme su base volontaria, cioè per scelta. Gli veniva detto, tu e la tua famiglia da oggi andrete a vivere lì. Questo chiaramente portò a un'unione, a una condensazione di gruppi sociali che centravano ben poco gli uni con gli altri. Quindi abbiamo i professori, gli operai, le prostitute, gli agenti del Kagebe, i dottori, che vivevano tutti insieme da un giorno all'altro. All'inizio, ai predoni di casa, nel primo decennio, insomma, quando il regime era ancora neonato e non si era ancora entrato nel periodo stalinista più duro, ai predoni di casa era spesso concesso un certo periodo di tempo, tipo due settimane, generalmente, per trovarsi i propri inquilini e quindi per poter attutire un po' il colpo della convivenza forzata, scegliendo appunto con chi andare a vivere. Questa usanza venne ben presto eliminata e invece erano appunto i funzionali statali che sceglievano arbitrariamente chi trasferire dove. E oltretutto, un'altra differenza sostanziale con la convivenza pressovietica, diciamo, è che non c'era un padrone di casa. Gli appartamenti erano stati confiscati e dunque appartenevano allo Stato, ma non c'era una figura, quindi una persona responsabile dell'ordine dell'appartamento, una figura di riferimento a cui fare affidamento per eventuali dispute e problemi, anche solo per l'ordine o per definire quali fossero le regole. E dunque gli inquilini hanno dovuto cercare ben presto di autoregolarsi e dandosi un set di regole per cercare di appunto conciliare questa vita comune forzata. In generale possiamo dire che per definire un'abitazione una come un'altra abbiamo tre criteri. Innanzitutto appunto la coabitazione di individui di estrazione sociale, occupazione, identità culturale, ideologia, eccetera, radicalmente diversa, quindi persone diverse che probabilmente altrimenti non sarebbero andate a vivere insieme. La ripartizione delle stanze era categoricamente una per famiglia, quindi anche le famiglie più numerose con tanti figli non potevano essere assegnate a più di una stanza. E oltretutto gli strumenti, gli spazi comuni, gli utensili, tutto l'equipaggiamento necessario alla vita quotidiana era limitato e non sufficiente per tutti. Questo cosa significa? Chiaramente significa che va, tutto va usato a turni e secondo, insomma, delle regole ben precise. Tant'è che Majakowski e altri suoi contemporanei all'inizio accolsero con entusiasmo questa pianificazione, queste nuove regole, perché insomma le identificavano una guerra al comfort, un comfort lassista, un comfort pigro, una guerra contro fantasmi, i residui di un passato borghese opprimente. Insomma, una guerra al vecchio e finalmente l'introduzione del nuovo, un nuovo più libero in cui le persone possono essere pari. E però questo ci porta, insomma, a una situazione che vale la pena analizzare. Perché, come ho detto, se abbiamo un equipaggiamento degli strumenti limitati, questo significa che l'uso di queste cose, di questi oggetti, deve essere molto controllato, ma soprattutto la cosa ancora più importante è che i conti e le spese devono essere separati equamente. Per spese non si intende solo le spese, quelle che noi diremo oggi, insomma, delle utenze, perché comunque nell'Unione Sovietica era lo Stato fondamentalmente che provvedeva a queste spese. Il gas, ad esempio, non lo pagava lo Stato. Bensì, più che altro, sono le spese non materiali, cioè ad esempio lo sforzo per tenere pulito, eccetera, eccetera, ma anche le spese per l'elettricità, che molto spesso non veniva fornita dallo Stato. E quindi si ritrova in situazioni paradossali per cui, ad esempio, un esempio che viene molto spesso citato, una comunale che di solito c'era un bagno. e nel bagno, un bagno, cioè un bagno si intende un cubicolo di un metro per due con una tazza, un water e basta. E nel bagno c'erano 5, 6, 7, 8 lampadine a seconda di quante stanze c'erano nella casa, con gli rispettivi interruttori fuori, affinché ognuno potesse essere sicuro di usare solamente ciò che avrebbe poi pagato lui. e quindi che tutti i conti fossero separati, i conti dell'elettricità, io pago quello che uso io e non di meno e assolutamente non voglio pagare di più. E poi chiaramente questo porta a situazioni ancora più ironiche, estreme, per cui, ad esempio, se l'inquilino di una stanza in una comunalca ospitava qualcun altro, questa persona, questo ospite, che magari non era mai stato in quell'appartamento, avrebbe dovuto prestare grande attenzione a usare l'interruttore giusto, perché nel momento in cui scopriva che questa persona aveva usato l'energia elettrica di qualcun altro, si avrebbe scoppiato uno scandalo. Perché fondamentalmente il concetto è che se tutto non viene spartito equamente, qualcuno ne risentirà sempre. C'è un antropologo di nome George Foster che ha studiato principalmente le società rurali nel Messico, però viene spesso citato da alcuni sociologi russi, perché la sua teoria, diciamo, è perfettamente applicabile alla società sovietica. George Foster dice che sostanzialmente in alcune società chiuse viene data, viene concessa dall'alto, una quantità limitata di beni e risorse, sia materiali che immateriali, quindi sia soldi e beni mobili e mobili, sia per esempio felicità, successo, eccetera. E se una persona ne fa un uso eccessivo, ciò va a discapito di tutti gli altri, cioè quello che prendo io lo tolgo a te. E questa è una cosa fondamentale da capire, è fondamentale capire questa cosa per capire il clima che caratterizzava le comunalchi, tant'è che un sociologo russo di nome Ilya Utyekin, che ha a lungo studiato le comunalchi, in generale l'urbanistica sovietica, lui ci porta alla nostra attenzione il fatto che la parola felicità in russo si dica «shast» e l'etimologia di questa parola è la parola «shast» che vuol dire «parte», la parte di un intero. E dunque il concetto di felicità va di pari passo col concetto di spartizione. Bisogna sempre fare attenzione alle parti, alla suddivisione di questo intero, altrimenti non può esistere felicità. E questo ad esempio è una cosa che si ritrova in moltissime opere, adesso non vi cito un grande classico della letteratura russo-sovietica, bensì vi cito il romanzo Limonov, che è appunto molto popolare, di Emanuel Carrer, in cui Limonov racconta, e qui cito, «Ero ossessionato dall'idea che volessero soffiargli la stanza. È inutile spiegargli che questa è una fissazione importata dall'URSS, dove anche la stanza più squallida è un bene prezioso ed effettivamente c'è gente che può passare mesi e mesi a ordire piani contorti per rovinare i propri vicini e mettere le mani su nove metri quadrati in cui stare stipati in quattro». Appunto, ed è questo quello di cui stavamo parlando, quindi questo mettere le mani, questo cercare di sottrarre qualcosa agli altri e quindi viceversa, essere ossessionati dall'idea di non farsi sottrarre nulla, fossero anche due posate, o quello sarebbe già molto grave, o anche solo due fiammiferi. Ma c'è un'altra cosa, un altro elemento, che ha caratterizzato la vita in comune nelle comunalchi, oltre a questa, diciamo, convergenza fra beni materiali e beni immateriali. e cioè la nuova riconfigurazione del rapporto fra pubblico e privato. Perché? Dunque, abbiamo detto che in un appartamento nobiliare di dieci stanze, cinque stanze, abbiamo dieci famiglie, cinque famiglie, che vivono tutte insieme. Quindi questo che cosa significa? Significa che c'è tantissima gente in uno spazio molto ristretto e queste persone devono condividere cucina, bagno, telefono, lavanderia, utensili, tutto. Quindi questo significa che tutti sanno quello che fai, tutti sanno cosa cucini, tutti sanno quando vai in bagno, a che ora ci vai, quanto ci stai, tutti sanno che cosa lavi, tutti sanno come ti basti, quali sono i tuoi panni, la tua biancheria intima, sei costantemente esposto su un palcoscenico. Non c'è il concetto di privacy, il russo privatnost, a un concetto post-sovietico, che al tempo era stato completamente sradicato. E dunque, anche negli scenari più rosei, in cui questa condivisione assoluta degli spazi era, diciamo, fonte solamente di malessere individuale, banalmente, io vorrei uno spazio per me e non ce l'ho, la situazione era già abbastanza drammatica. Ma, la cosa si fa ancora più drammatica nel momento in cui questa totale assenza di privacy diventa, questo annullamento dell'io, diventa una sorta di metafora del controllo sociale del regime stalinista, che è ricorrente anche nella letteratura. Bulgakov, in Cuore di Cana, ad esempio, dice, i caseggiati comunali, comunalchi, sono senza pareti e hanno mille occhi. Questo cosa vuol dire? Mille occhi perché? I mille occhi sono i mille occhi degli inquilini. Infatti, quello che rendeva ancora più angusto il clima delle comunalchi erano i meccanismi di delazione fra conviventi. Tanto è che lo Stato, nel momento di massima paranoia, quindi negli anni più rigidi del controllo sociale, del controllo del regime stalinista, non era assolutamente raro che lo Stato sospettasse di qualche cittadino per fondamentalmente qualsiasi cosa, era molto possibile. E nel momento in cui questo succedeva, era facilissimo trovare informatori fra i numerosissimi inquilini di questa persona. Quindi, chiaramente, anche una persona che magari sa, non stava facendo nulla di male, figuriamoci se stava facendo qualcosa di non molto apprezzato dallo Stato, questa persona, immaginiamo come si deve sentire nel momento in cui sa che vive con altre 15-20 persone e che fondamentalmente possono essere tutte spie. Non solo potenziali spie, ma anche spie di professione, perché non dimentichiamoci che funzionali statali, agenti segreti, agenti di polizia, agenti del Cagebè, anche loro vivevano nelle comunalchi e molto spesso erano mandati lì apposta. E dunque questo fa sì che la simbologia della comunalca si ribalti. Quindi dall'utopia di un luogo comune, un luogo di condivisione, in cui tutti sono pari, sono uniti da un legame di fratellanza, questo luogo e quest'utopia si ribalti e diventa un luogo della paranoia per antonomasia, un luogo dove al controllo del regime si unisce il controllo dei pari, in una specie di panoptico socialista in cui tutti guardano tutti e tutti possono essere gli occhi dello Stato. Tant'è che il sociologo russo Simeonov nel 1996, quindi in pieno clima da liberalizzazione post-sovietica, quindi insomma apriamo le gabbie, definire comunalchi come un laboratorio del totalitarismo, in cui vennero più o meno volontariamente sperimentati dei nuovi metodi di controllo sociale, in cui oggi probabilmente diremmo un controllo peer-to-peer, in cui appunto tutti si controllano a vicenda e tutti sanno che fondamentalmente nel loro coinquilino si può nascondere una spia. E non importa che una persona sia innocente o meno, perché allora questa non è una discriminante rilevante. quindi chiaramente questo fenomeno diventa un teatro perfetto, un'ambientazione perfetta per appunto anche produzioni letterarie. Ad esempio, di nuovo, questa è una costante in Bulgakov. Nel Maestro Margherita, ad esempio, ci ricordiamo l'episodio in cui il direttore del teatro di varietà, Stiopalikadier, spoiler alert per chi volesse leggere il Maestro Margherita e non l'ha ancora letto, questa persona viene brutalmente uccisa nel suo appartamento. E questa scena viene introdotta con la frase nell'appartamento cominciavano ad accadere fatti inspiegabili. E quindi, questo io chiaramente qua sopportano degli esempi perché il tempo è quello che abbiamo, ma questa è una cosa ricorrente. Le comunalchi diventano sia nella realtà che nella fiction il teatro perfetto per questo tipo di avvenimenti oscuri, inspiegabili, molto spesso anche pericolosi. Vorrei raccontarvi appunto un episodio che ho vissuto io stessa nei miei due anni a San Pietuburgo. Conosco molte persone che abitano ancora nelle comunalchi e poi vi spiegherò perché. C'era in una comunalca in cui abitava una persona che conosco, viveva una signora abbastanza anziana che aveva una sedia rotta fuori dalla porta della sua stanza e a lei ogni giorno la ricomponeva malamente e ci si accomodava stando un po' in bilico, insomma, senza appoggiarsi del tutto. Tant'è che, insomma, la mia amica gli disse ma vuole che la riparo, ci metto due secondi, non ci vuole nulla, insomma. E questa vecchietta rispose no, perché se mi ripari questa sedia mi verrà rubata entro un pomeriggio. Questo per far capire un po' insomma il clima che va oltre ogni logica a cui sono abituati gli inquilini di queste comunalchi. E adesso, appunto, io ho accennato al fatto che nelle comunalchi ci abitano ancora le persone e così è. Infatti, a fine, queste comunalchi vennero, comunque, rimasero in uso nonostante tutte le nuove e nuove pianificazioni urbanistiche dell'Unione Sovietica, non vennero mai smantellate del tutto. Man mano, a fine degli anni 50, con Khrushchev si introdussero nuove politiche urbanistiche in cui si cercò di assegnare a ogni famiglia un appartamento singolo nelle cosiddette Khrushchev, che erano mini condomini, diciamo, di cinque piani tutti uguali. Però non si riuscì mai del tutto a smantellare le comunalchi e a trasferire i loro inquilini. E non ci si riuscì nemmeno in seguito al 1991. Cosa successe? Nel 1991, in Russia, appunto, vi fu una totale privatizzazione di qualsiasi cosa, appunto. Tant'è che quegli anni vengono chiamati, dal 1991 al 2000, anno in cui si insediò Vladimir Putin, vengono chiamati i selvaggi anni 90, perché fu privatizzato tutto di colpo tramite il sistema dei voucher. E quindi cosa successe? Successe che si decise che gli inquilini delle stanze sarebbero potuti diventare i legittimi proprietari di queste stanze. E questo che cosa vuol dire? Se ci pensiamo, il fatto che chi abitasse in una stanza ne diventasse proprietario vuol dire che questi appartamenti non furono privatizzati secondo lo schema originale, quindi lo schema pressovietico di appartamenti grandi, con più stanze, tutto, ma secondo lo schema sovietico, appunto. Quindi ci si ritrova nella situazione paradossale per cui si hanno tantissime stanze in un unico appartamento che appartengono a tante persone diverse, mentre gli spazi comuni come il bagno, la cucina, la lavanderia non appartengono a nessuno. E quindi queste stanze chiaramente vengono ancora affittate, vengono affittate appunto a diverse categorie sociali, tendenzialmente persone a reddito basso o come appunto anche operai migrati oppure anche studenti, ad esempio, persone che magari hanno la priorità di dover vivere nel centro e non sono, insomma, sono disposte a vivere a condizioni un po' più precarie o persone che non hanno altra scelta se non quella di vivere in condizioni precarie perché chiaramente le comunali sono gli alloggi più a basso costo che si possono trovare sul mercato. E dunque, visto che queste strutture vengono affittate lo stesso, i padroni di queste stanze non hanno neanche l'esigenza di unirsi in associazioni, sindacati, insomma, cooperative al fine di ristrutturare neanche gli spazi comuni, cosa che infatti non succede. e dunque, adesso vorrei farvi vedere un po' appunto, volevo farvi vedere un po' di... ecco, questi ad esempio sono i palazzi e questi sono i palazzi storici e queste qua, non so se vedete il cursore, spero di sì, potrebbero essere benissimo tutte comunalche, quindi palazzi meravigliosi. Queste sono appunto le stanze, questa chiaramente è una stanza particolarmente sfarzosa, non sono tutte così, ma molte, come erano un tempo, in epoca pressovietica, e queste come sono oggi. Questa è la cucina di una comunalca, non so qual è, quindi non so quante persone ci vivono dentro, ma comunque tante. Qui appunto possiamo vedere gli spazi comuni, le pareti, le porte che sono state, non sono state sottoposte a lavori di particolare ristrutturazione, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, la situazione è che tuttora oggi molte persone vivono condividendo questi spazi. e dunque, nel 2008, nel mandato di Medvedev, quindi fra i due mandati di Putin e gli altri due mandati di Putin, c'è stato un breve mandato di Medvedev di quattro anni, il presidente Medvedev decise di dare il via a un'opera di modernizzazione, la chiamo così, che prevedeva moltissime riforme, moltissimi ambiti, tra cui anche l'urbanistica. e venne stilato un piano di ricollocazione degli inquilini delle comunalchi in appartamenti di nuova costruzione tendenzialmente in periferia. Tuttavia, questa cosa rimase pressoché incompiuta, perché innanzitutto i criteri per essere ricollocati erano molti, ma il criterio di più difficile realizzazione era l'accordo totale, di tutti gli inquilini. Quindi, affinché le persone fossero ricollocate in appartamenti di nuova costruzione, tutti gli inquilini della comunalca, quindi si parla di 5, 6, 10 persone, dovevano essere concordi sul fatto di voler lasciare la comunalca ed essere trasferiti in appartamenti nella periferia. Chiaramente, questo è una cosa molto difficile da realizzare, perché in generale è difficile mettere d'accordo 10 persone che si conoscono a malapena, ma soprattutto, chiaramente, tutti hanno esigenze diverse. Appunto, magari c'è lo studente che vuole rimanere nel centro o la persona di una certa età che non ha piacere a fare un trasloco per andare in un quartiere completamente sconosciuto. E quindi, insomma, il risultato è che ci sono letteralmente decine di migliaia di appartamenti ad uso comunalca comunalca con queste caratteristiche e con questi servizi e si parla di più di 200.000 famiglie solo a San Pietroburgo, questo per darvi un'idea, che vivono ancora lì, di cui 80.000 sono ancora in lista d'attesa da più o meno 12 anni per il trasferimento. Quindi, dunque, siamo quasi alla fine di questa diretta. Io spero che questo argomento vi abbia interessato. In caso, appunto, ne ho scritto anche un articolo se vorrete avere più dettagli. L'unica cosa con cui voglio concludere è che, appunto, la comunalca, ciò di cui abbiamo parlato oggi, è stato il fulcro delle politiche abitative soviatiche, è stata una pietra migliare per il ripensamento della società in senso collettivista e poi è diventata essa stessa una metafora di un regime oppressivo e di tutte le conseguenze che ha avuto, sta avvolgendo le abitudini e la concezione di pubblico e privato dei cittadini e il loro rapporto con il potere e si può ritrovare in moltissime opere letterarie, di cinema, musicali, sovietiche e post-sovietiche. E quindi è molto, insomma, importante anche per capire un po' meglio la mentalità e le abitudini del popolo che spesso leggiamo, di cui parliamo, che guardiamo nel cinema e nella tv. Quindi, niente, direi che possiamo chiudere qui. Io vi ringrazio tutte e tutti per avermi ascoltato. Ciao!